come avete visto il titolo oggi vi parlo una cosa molto molto speciale partendo dal principio allora io odio la saga dei film quindi la saga del cinema di twilight l'ho sempre odiata mi ci hanno rascinato a vederli tutti e io odiato tutti i film proprio non riuscivo a vedere quella cosa melenza e senza senso io proprio lo reputavo senza senso quindi ai tempi quindi dieci anni fa io non lessi i libri l'altro giorno stato in biblioteca e non sapevo cosa leggere qualcosa ho visto il primo capitolo appunto di twilight e quindi ho voluto prenderlo perché come vedete biblioteca è gratis ma al che vado portavo indietro e fine dalla storia non so mi è venuto così dare una possibilità di solito perché i libri di solito sono molto diversi aspetto ai film allora cosa è successo senza scioccarvi senza volervi appunto scioccare mi sono follemente innamorata di questo libro allora partiamo dal principio allora la trama e penso che ha conosciuti tutti comunque parla appunto di questa ragazza isabella che lei si fa chiamare bella perché non le piace che si trasferisce nella cittadina piovosa e umida e brutta con la nebbia di forks dove abita suo padre appunto sono divorziati lei è vissuto finora con sua madre però sua madre inizia a viaggiare con il fidanzato e quindi lei decide di trasferirsi dal padre in cui la cittadina piovosa nella scuola incontrerà un personaggio edward cullen che si rivelerà essere un vampiro di cui lei si innamorerà pazzamente pazzamente giusto sì pazzamente ovviamente anche lui si innamorerà di lei e quindi storia d'amore di twilight lei è un personaggio molto non so se avete presente quei personaggi per chi legge manga shoujo avete presente quel protagonista imbranata che si inciampa anche dove non c'è niente esatto lei esattamente perfettamente lei edward kyle invece è il figo di turno ovviamente perché visto che sono un tipo che odia questo genere di libri perché twilight mi piace allora prima cosa per cui mi piace perché lei la differenza del film non è completamente idiota nel film è veramente un'idiota pazzesca infatti quel figo il film ho odiato christian stewart non mi sapevo per niente comunque questo è un altro discorso ok è arrivato qualcuno e volevo appunto dirvi che bella bella è una persona completamente idiota è un pochino più spigliata sia si bellina le mani di burro questo però lo sono anch'io quindi io anch'io mi venendo dove non c'è niente quindi sono un po come bella però non ho ancora incontrato nessun bambino e invece edward non è il solito figo che se la tira c'è è figo perché lei lo vede figo però non non la tratta di merda uno non la picchia quindi non le fa del male come succede negli hangout di adesso che il ragazzo il bad boy che picchia la ragazza e il figo no no assolutamente no non è assolutamente una cosa è un ragazzo normale è un vampiro che però vuol stare lontano dalle persone però se diciamo che edward edward troverà in bella la sua droga nel senso il sangue di bella è tanto buono per lui che non riesce a starci lontano nonostante lui non voglia avere niente a che vedere con bella però non la tratta male la tratta diciamo come una cosa da proteggere una cosa molto romantica e cosa che mi ha scioccato che ve lo dico però mi ha scioccato nel film non mi ricordavo che fosse sinceramente jacob è molto più piccolo di bella cioè a 15 anni jacob 15 perché poi partiamo anche a questo punto differenza al film mi è piaciuto tantissimo questo libro oltre per il fatto perché appunto che lei non è una stupida oltre il fatto comunque che è un fantasy amoroso vabbè comunque ultimamente mi sono piaciuto molto i fantasy amorosi quindi questo anche e poi non non è come gli altri young adult che arrivi a metà libro e sono già finiti a letto comunque ci sono già uniti corpi qui forse a metà libro si danno il bacio forse non so se a metà libro un po più in là dei metà libro si danno il primo bacio ed è una cosa che l'ho trovata molto bella perché è una cosa che si costruisce man mano non è che l'improvviso si vedono oh mio dio innamorato di te infine della storia finito si mettono insieme no e non per il fatto che lui è un vampiro ma per il fatto proprio che essendo comunque anche loro tra virgolette la prima storia vogliono andarci con molto con calma vogliono conoscersi voglio vogliono sapere sempre più l'uno dell'altro non è solo una cosa fisica è proprio una cosa molto sentimentale ed è una cosa che è molto bella perché io da adesso io non li trovo queste cose cioè io veramente non trovo è tutta una questione di fisica l'attrazione e fine non è una cosa di sentimentale quindi questo è un sacco io mi sono innamorata della coppia sono letteralmente innamorata della coppia e io ho 23 anni ragazzi ho 23 anni e 23 mi sono innamorata cioè quando andavo al superiore leggevo tutti i libri di sangue morte guerre battaglie adesso leggo questi libri vabbè un passaggio cioè non so spiegarmi intanto gesticolo e niente allora io sono talmente tanto innamorata di questo libro che ho deciso che acquisterò il libro fisico diventerà mio acquisterò anche gli altri libri a mie spese perché mi sono letteralmente innamorata di twilight io veramente anche chi ha odiato la saga cinematografica direi di darci un occhio al libro perché è molto diverso dal dal film ne vengono le parole e l'altra cosa che ho notato è che però questo è uno spoiler quindi diciamo che adesso inizia lo spoiler ok saluto gli altri che non vogliono lo spoiler e adesso veniamo noi con lo spoiler il triangolo amoroso tra bella edward e jacob si accenna ma di poco verso la fine cioè tutto il triangolo amoroso che c'è nel film nel libro non esiste questo fa un po' da pensare sinceramente non mi è piaciuta questa scelta cinematografica devo essere sincera io probabilmente se avessi letto il libro avrei voluto vedere il film ma avendo visto il film e adesso avendo letto il libro mi rendo conto che il film non volevo proprio vedere comunque se voi avete già letto ditemi appunto cosa ne pensate se anche voi avete avuto questa idea qui non lo so fosse se non solo un'idea mia presto arriverà un video acquisti librosi perché voglio assolutamente fare il video voglio assolutamente comprarmi in questi libri quindi voglio assolutamente comprare e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao